Rivalutare la costa di San Leone liberandola o riutilizzando le strutture ricettive che negli anni sono state sequestrate e abbandonate dai titolari. Questo è quanto chiede l'Associazione Ambientalista Maria Amico Agrigento che in previsione della stagione balneare invita le autorità preposte ad attivarsi, ove possibile, al ripristino dei luoghi. In sostanza, l'Associazione Diretta da Claudio Lombardo chiede il dissequestro delle aree e la riattivazione delle strutture per restituire decoro alla linea costiera che dal piazzale Giglia si estende per circa due chilometri lungo il viale delle Dune. La presenza di spiaggia dei ruderi che un tempo ospitavano fra i più noti locali di intrattenimento non solo rappresenta un vero e proprio pericolo per l'incolumità pubblica, ma costituisce anche un imbarbarimento paesaggistico di cui probabilmente gli agrigentini farebbero volentieri a meno. Da qui la richiesta di rivalutare la costa di San Leone.